Buongiorno, ecco il video unboxing con la collaborazione Panda All Select Allora, ho preso un pochino di articoli in base al budget che avevo a disposizione e ve li mostro subito Il primo che vi faccio vedere è questo kit Questo qui, intanto i codici li troverete, il link nel box informazioni Dove dentro abbiamo due misurini di plastica dura Per cui questi non so una volta versata la resina se si riesce a staccare Ma non penso perché non sono in silicone Poi abbiamo queste pipette e il salatito Le pipette sono 2, 4, 6, 8, 10 e le trovo molto molto utili Poi abbiamo Questi anellini Abbiamo questi lacetti con chiusura Sono 3 C'è il moschettone da una parte E qui manca un pezzo di cadena Forza lì sì, è rimasta nella bustina E la chiusura dall'altra E andiamo a vedere gli stampi Allora, gli stampi sono 3 Sono fatti in questa maniera Allora, praticamente come funzionano questi stampi Prima si fa una colata su questa parte dove c'è queste scale Si prende quello che viene fuori da questo stampo Si mette di qua E si cola la resina mancante Ve lo faccio vedere in un tutorial Io questi stampi Sinceramente lì cercavo Perché avevo visto un video su YouTube Dove venivano fatte questi componenti Con questo sistema Con questa Con questi stampi E mi domandavo dove si potessero trovare Per cui sono molto contenta di aver preso Aver trovato questi stampi Per cui un tutorial riguarderà l'uso di questi Poi ho preso questo filo elastico Sono 100 metri Questo è il codice Non è il classico filo elastico trasparente È un pochino più resistente Come vedete è ricoperto È da un millimetro E mi serve perché ho tante pietre dure e chips E volevo smartirle facendo cose con il filo elastico Però mi serviva questo qui Più resistente rispetto al classico Che è da 0,20 0,19 Eccetera Poi ho preso Questa scatola Di perline in pasta polimerica O in argilla I colori sono questo Che è un panna Abbiamo un marrone Un grigio Un color salmone Un viola grigio E il nero Sono molto piccoline Come potete vedere Saranno Adesso le dimensioni Non me le ricordo Ma sembrano un 4 mm Con il foro da 1 E mi sanno Veramente carini Allora generalmente di queste Ne esistono delle versioni Molto più grandi Vengono impiegati anche Per fare abbellimenti Per i cellulari Ne ho visti tanti Quest'estate Dove ci si mettono anche Le letterine Ci si scrivono il nome Però io cercavo una cosa Un pochino più fine E con i colori Un pochino più neutri E mi piacciono molto Per cui Un altro tutorial Riguarderà questo materiale In abbinamento a questo Che sono delle Delle perline Chiamiamoli così In argento tibetano Di questo colore Con questa Con questa decorazione Il foro è sempre Da Un millimetro Un millimetro E due C'è nella colorazione Argento E in questa Color bronzo Che mi piacciono Tantissimo E le voglio mettere In abbinamento A queste Sono veramente Carine Li mettiamo a posto Che dire Allora Questa collaborazione Prevede Per i miei follower Dei miei social Uno sconto Del 10% Che non è poco Rispetto a Tanti altri Sconti Su Il carrello Completo Per cui Non c'è Un minimo Di acquisto È Il 10% Il codice È Claudia Poi ve lo scrivo Comunque Nel box Informazioni Questo È tutto Per cui Ci vediamo Per i tutorial Ciao Grazie Per l'attenzione Per l'attenzione Grazie a tutti.